Sono in compagnia di Maurizio Fonderes, campione mondiale, testimonial del Giro d'Italia per Banca Mediolanum che ha organizzato a sua volta un altro Giro d'Italia, una specie di Giro d'Italia per clienti ed amici. Ormai è da 15 anni che sono testimonia di Banca Mediolanum con Moser, con Bettini, con Motta, quest'anno c'è anche Ballan e gli eventi che facciamo sono molteplici, dalla partenza ai pranzi alle cene dove siamo tutti e cinque e poi abbiamo due pedalate, una la mattina e una nel finale di tappa e normalmente io faccio l'arrivo, però ci dividiamo i compiti e quindi pedaliamo anche durante il Giro e è bellissimo soprattutto per i clienti fare l'ultima parte, perché fai l'ultima parte sul percorso in mezzo alla gente che aspetta la corsa e penso che questa sia un'esperienza unica perché quando transiti sul rettilineo d'arrivo dove arriveranno i corridori dopo due ore con già il pubblico piazzato ad aspettare e tu che sei magari un ciclista normale e non hai mai vissuto una cosa così è una cosa direi emozionante. Come ha visto l'Abruzzo? L'Abruzzo lo conosco da tantissimi anni perché il Giro d'Italia l'ho fatto ormai da 15 anni con Mediolanum, l'ho fatto quattro volte da corridore, più quando ero dilettante. L'Abruzzo è una di quelle regioni che ha due particolarità, hai il mare e attaccato al mare hai la montagna, in un'ora e mezza sei a duemila metri e poi puoi fare il bagno a mare, quindi è una cosa unica oltre che mangiare bene. E cosa ci dice sull'abruzzese Giulio Ciccone? Ciccone è andato molto forte perché ha dimostrato al Gran Sasso di essere con i più forti anche se ha sbagliato ad attaccare troppo presto perché uno come lui poteva arrivare nei cinque ma in ogni caso sta facendo un grande giro.